Sono molto contento con il mio gol e anche per la squadra. Come ti sei trovato con il mister Marino? È arrivato da pochi giorni, però vi ha subito dato le nozioni giuste. Tu ti conosci lui perché ha esperienza in B e anche in A. Il mister ha detto quando arrivi qua tutti insieme e poi solo guarda avanti. Come ti sei trovato tu invece all'arrivo a Dempoli in questa squadra e come ti trovi in quella posizione in campo? Mi piace questa squadra perché io arrivo qua una settimana fa e ho visto 25 calciatori fortissimi. Ma per noi è importante pensare solo alla prossima partita. Senti è arrivato anche il gol, un gol all'Henderson mi viene da dire con il tocco in aria. Sei un giocatore di gamba a cui piace inserirsi e buttarsi dentro. Sì, io ho una calciatore che corre tanto per i miei compagni e speriamo che il nostro calcio continui così. Se l'è tu... ...non hai vissuto... ...non hai vissuto... ...non hai vissuto...